Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha la presentazione di Marco Fioravanti candidato sindaco di Ascoli. Può spiegare la sua presenza e come vede la campagna elettorale ad Ascoli? Sono il sindaco, una persona che in ogni occasione è circondato dall'affetto della sua città, quindi questo mi fa capire che c'è veramente un rapporto importante che è nato in questi anni. Per il resto io credo che Ascoli stia crescendo, il fatto che Marco sia Presidente di Anci regionale è un riconoscimento al lavoro che ha svolto, alla città di Ascoli, alla sua capacità di aggregare e di aggregazione che mette sempre in campo e questo è importante per il nostro entroterra che deve ritornare ad essere centrale, aprendosi e cercando di ricostruirsi intorno a delle logiche che sono appunto quelle del futuro fatte di sinergie e di valorizzazione dei territori.